La componente fondamentale è il sistema di trasferimento. Infatti non possiamo utilizzare i comuni transfer da impronta analogica, poiché la loro superficie metallica e lucida verrebbe letta con difficoltà dagli scanner intravali. Dobbiamo utilizzare degli strumenti detti scan body o scan abatment, dotati di superficie opacizzata e geometria nota. Ed è proprio questa geometria nota che permetterà, dopo aver rilevato la scansione, di accoppiare la piattaforma a implantare, un po' come si accoppia l'analogo con il transfer nell'impronta tradizionale.